Sì, è la seconda edizione della Summer School, appunto una scuola estiva che l'anno scorso ha avuto anche presenze da più parti d'Italia e anche dall'estero e che quest'anno avrà un parterre di relatori ancora più ricco. La Summer School vuole mettere al centro quello che oggi è un grande problema che richiede innanzitutto consapevolezza, studio, approfondimento e non ricette sulla base di slogan di disprezzo, sulla base anche di slogan faciloni per alcuni aspetti. Si tratta appunto di cinque giorni dal 30 agosto al 5 settembre in cui nel primo giorno rifletteremo sulle condizioni geopolitiche che hanno determinato e che determinano le partenze e poi rifletteremo su quello che è un problema anche e cioè l'aumento della presenza delle donne e la presenza dei minori e soprattutto poi rifletteremo su un grande tema che è il tema della integrazione, che è il tema che necessita di un confronto tra le istituzioni ad alto livello. È una Summer School ricca di un partenariato istituzionale perché oltre al comune di Ragusa, il libero consorzio, la prefettura, la fondazione, la diocesi, la struttura di lingue, la struttura didattica speciale della nostra università, la scuola per il servizio sociale e quindi è esatto con la consapevolezza che è necessario condividere riflessioni, condividere testimonianze perché ci sono anche le persone impegnate nel campo e con la consapevolezza che una buona prassi nasce da una buona teoria, da una riflessione puntuale, da un'analisi puntuale sugli accadimenti. Abbiamo firmato questo accordo per diverse attività con la Fondazione San Giovanni Battista qualche mese fa, quindi la Summer sarà uno dei primi frutti concreti di questo accordo e noi contribuiamo un po' all'organizzazione, un po' anche con dei contributi specifici che riguarderanno appunto in generale questo tema del viaggio, ma come dire noi condividiamo con loro questo impegno ad una riflessione sempre più attenta, qualificata e razionale su questo tema immenso e inutile. In pratica come vi state muovendo? Una mattina la gestirò io sul tema appunto di cultura africana, ho chiesto a Giacomo Anastasi del centro mediterraneo della Pila di affiancarmi proprio per mettere su una rete di collaborazione che sia sempre più in grado di dare delle risposte concrete, efficaci, perché anche c'è un grande lavoro da fare sul piano culturale. Il tema della Summer è il viaggio, c'è un viaggio che viene da sud, ma c'è un viaggio che dovremmo fare anche noi ed è su questo che noi speriamo dare un buon contributo, un viaggio di conoscenza verso un'alterità di cui in realtà sappiamo pochissimo e quello che sappiamo lo sappiamo in maniera molto distorsa. C'era uno slogan di riferimento e lo slogan recitava le rivoluzioni si fanno studiando, sono convinto che la riflessione, lo studio, l'approfondimento, l'entrare dentro la complessità è necessario per poi tentare di avere delle coordinate che possono mutuare delle buone prassi. Una buona prassi inizia sempre da una buona teoria e questo è il senso della Summer. Ed è una Summer che vede coinvolti tanti, vede il mondo accademico, vede il mondo delle istituzioni, vede gli operatori del settore perché tra riflessioni accademiche, tra esperienze laboratoriali e testimonianze penso che il taglio narrativo diventa un taglio narrativo stimolante. Voglio solo sottolineare, l'ho detto poc'anzi, come in questa avventura sono coinvolte diverse istituzioni, il sindaco di Comiso è qui a testimoniare l'impegno della sua città che è straordinario in questa direzione, c'è la città di Ragusa, stanotte hanno approvato un bilancio tardanotte e quindi hanno chiesto scusa, sono i postumi del bilancio, c'è il libero consorzio che stanno in contemporanea facendo un'altra conferenza sulle trazzere che vede un po' la provincia come partner principale, c'è la prefettura, sono contento che abbiamo ottenuto il patroginio nella prefettura e che il ministero degli interni abbia autorizzato il patroginio proprio perché è una testimonianza dell'accoglienza, della rilevanza che viene data a questo tipo di iniziativa. Mi piace anche sottolineare come l'iniziativa stia vedendo una collaborazione degli ordini professionali, abbiamo già avuto l'accreditamento dell'ordine degli avvocati, abbiamo già avuto l'accreditamento dell'ordine degli assistenti sociali e ci stiamo dando adesso da fare per poter avere l'accreditamento dell'ordine dei giornalisti e dell'ordine degli psicologi. Ringrazio la scuola del servizio sociale che vede la presenza del suo direttore, il dottore Saladino, la struttura speciale di Ragusa dell'Università di Lingue che vede il professore Bulgio con cui già da qualche anno abbiamo avviato una feconda collaborazione. Ho già detto della collaborazione e del lavoro che l'amministrazione comunale di Comiso sta facendo nel settore e ringrazio la prefettura. La dottoressa Mallemi, sapete che tra le altre cose è anche commissaria in un comune complicato come quello di Corleone, ci teneva molto a essere presente. Mi ha raccomandato di consegnare i saluti e le sue scuse. Ringrazio la dottoressa Corriere che poi spesso è con lei che come voi sapete per il CAS è uno dei punti di riferimento della nostra prefettura. Grazie a voi, perché vedete la fondazione non è che è un ente astratto, la fondazione siete voi, ognuno di voi e il fatto che si sia al secondo anno di questo processo di formazione è un dato importantissimo. E' un dato importantissimo perché voi avete a che fare con persone particolari che vengono da situazioni altrettanto particolari, difficili, complicate. Quando dico vengono è naturale che uso un eufemismo perché stiamo parlando di gente in fuga, in fuga comunque da qualcosa, in fuga dalla miseria, in fuga dalla guerra e alla ricerca di qualche altra cosa, di una serenità della propria vita, di una speranza di serenità, di una nuova vita. Ecco, voi avete a che fare con queste persone. E tanto più voi siete preparate ad accogliere, proteggere e integrare queste persone, tanto meglio farete il, come fate, il vostro lavoro. Ci tenevo particolarmente ad essere qui, prima che per l'affettuosa amicizia che mi legga a Tonino e a qualcuno di voi in particolare, proprio per segnare un elemento qualificante rispetto al panorama dei comuni, degli enti e delle istituzioni del comune di Comiso, che ha sempre fatto, perlomeno da che io svolgo l'oneroso ruolo di sindaco, dell'accoglienza, uno dei punti dirimenti, ripeto, e qualificanti della sua azione amministrativa. Da soli non si va da nessuna parte. È ovvio che facciamo team e dentro questo team la fondazione ha un ruolo preponderante e importantissimo. Dunque benvengano, ma poi vedo anche che c'è un parterre, prima che di cari amici, il professore Bugio, Giampiero, la prefettura, c'è un parterre straordinario di relatori per la presentazione, poi ho visto che diventa ancora più straordinario il parterre di coloro i quali invece vi terranno queste lezioni e vi formeranno. Mi piace anche un altro termine, e poi concludo, un altro verbo che viene usato sotto il viaggio, percorsi e mete, che è quello di proteggere. Voi avete anche questo ruolo, proteggere queste persone da che cosa? Dalle maldicenze, dai facili populismi, dalle autentiche sciocchezze che circolano e che in questo momento di difficoltà complessiva dal punto di vista sociale ed economico, purtroppo attecchiscono. Attecchiscono. Questa è la cosa grave. Si dicono fandonie, si dicono stupidaggini rispetto ai costi, rispetto al lavoro che verrebbe tolto agli italiani in senzolato. Lo diceva bene Tonino prima. Sciocchezze. Sciocchezze. Invece dobbiamo prima che integrare, ma credo che sia prodromico all'integrazione, la protezione di queste persone e la protezione dell'azione complessiva che state facendo, che è appunto quella dell'accoglienza finalizzata all'integrazione. Dobbiamo fare in modo, tutti insieme, ognuno col proprio ruolo, di sfatare queste stupidaggini che diventano ciclicamente argomento ora di questa, ora di quell'altra forza politica o quando è in difficoltà o quando non ha null'altro di cui parlare. E allora l'argomento, diciamo, che poi viene a essere discusso su tutti i mezzi di comunicazione di massa è quello dei migranti. Certo, però, e concludo sul serio, che l'Italia da sola non può farsi carico di quella mole di migrazione storica, storica, che sta avvenendo in questi anni. Bisogna chiedere con forza, e il governo questo deve fare, che ad accogliere non sia solo la penisola italica e anche la regione Sicilia. non ce la possiamo fare, ma non ce la possiamo fare proprio per una logistica geografica, non ce la possiamo fare perché non abbiamo le risorse, per farla bene, perché la stiamo facendo. Quindi bisogna anche qui che chi di competenza sensibilizzi il governo nazionale affinché faccia sentire la propria voce presso la comunità europea che deve metterci il proprio impegno per sorreggere, sostenere e aiutare l'Italia in questo grande sforzo sociale di grande umanità. Come partner istituzionale la Scuola degli Assistenti Sociali dal Contress, do a Dottore Saladino nella sua qualità di direttore un po' la parola per un saluto sul senso della collaborazione della Scuola degli Assistenti Sociali a questa Summer. Buongiorno, molto brevemente io vorrei mettere in evidenza le ragioni per le quali anche la Scuola Ferdinando Stagno dal Contress di Modica, sede del corso di laurea di Scienza del Servizio Sociale, sede staccata dell'Università di Messina, ha voluto concorrere alla realizzazione per il secondo anno, eravamo presenti anche l'anno scorso, di questa esperienza di formazione e di socializzazione dei saperi interdisciplinari che possono essere utili a chiunque voglia operare, lavorare in modo serio e professionale nella prospettiva della integrazione vera di queste persone, nostri fratelli che per motivi gravi di qualunque natura, ivi compresa la fame, non solo la guerra o le epidemie, hanno la necessità vitale perché non hanno alternative di chiedere soccorso ai paesi che stanno ancora bene nonostante le difficoltà e che quindi possono dare una mano, non solo possono arricchirsi del confronto e della integrazione tra diverse culture, diverse civiltà, diverse esperienze. I motivi sono semplici, sono la necessità di potenziare anche negli assistenti sociali, la scuola ne ha formati più di 700 nell'arco della sua esperienza e quando tutti questi assistenti sociali si sono laureati il fenomeno delle migrazioni non c'era, non era presente in questa, come dire, dimensione, in questa evidenza. Quindi c'è la necessità per chi è assistente sociale da anni di recuperare una lacuna culturale e professionale. Per i giovani diventa una necessità inderogabile attrezzarsi da questo punto di vista. Perché noi abbiamo creduto e collaborato in questa direzione. Come diceva il Presidente della Fondazione San Giovanni Battista, l'amico Tonino Solarino, noi ci troviamo di fronte all'attacco, direi anche premeditato, di una cultura ideologica che nega non solo le opinioni diverse su questi fenomeni, ma persino i dati statistici. Lui citava Tito Boeri, il quale da Presidente dell'Inps e non da capo di un partito populista, ha detto che gli immigrati da qui al 2040 costeranno certamente 35 miliardi di euro, ma ci daranno la possibilità di ricavare e portare all'attivo del prodotto interno lordo 73 miliardi, con un risparmio o recupero attivo di 38 miliardi. Di fronte a questa affermazione, l'opinione pubblica si è divisa come se i numeri si potessero mettere in discussione e fino a stamattina un autorevole personaggio di cui non faccio il nome, diceva che questi sono dati fasulli e che a suo parere questa gente va rimandata a casa e visto che sono morti tutti questi, se ne facciamo morire un altro paio di barconi, alla fin fine, se questo serve a frenare l'arrivo dei migranti, il gioco vale la candela. sulla scienza non si può discutere, sui saperi e sulla cultura non si può discutere. Allora noi riteniamo, e chiudo, che c'è un dovere, un dovere da parte delle istituzioni e sono contento che sono tante le istituzioni che vogliono investire, quantomeno la loro immagine, per questa summer school di quest'anno, hanno il dovere di investire e tutti noi dobbiamo investire in un potenziamento delle nostre competenze culturali, perché noi dobbiamo rispondere in modo professionale all'attacco della menzogna, delle fake news, dell'ideologia, del relativismo assoluto che disconosce anche la valenza oggettiva dei numeri con risposte non sentimentali, buoniste, emotive e così via, ma con l'evidenza oggettiva di quello che noi sapremo fare. E per poterlo fare bisogna essere preparati e consentitemi, bisogna lavorare insieme. Le paratie stagne, i campanili, le primogeniture, le autorreferenzialità di certa classe dirigente non servono più, scusatemi il pessimismo, o dal basso insieme si è in grado di affrontare i problemi, vi compreso, questo problema barra opportunità delle migrazioni o l'unica alternativa sarà la semplificazione e la dittatura, strisciante, occulta, ma è già dittatura, perché se una persona si consente e si autorizza a dire preferisco ammazzare due barconi piuttosto che accogliere i fratelli che vengono in situazione di bisogno e non succede nulla e non avviene nulla e diventa opinabile e allora noi siamo già ai prerequisiti del pericolo della dittatura e abbiamo il dovere di dire no. Questa summer school è un piccolo strumento che ci aiuta a dire un no basato sui piedi per terra e quindi sugli elementi oggettivi, il sapere, la cultura. Speriamo, ecco, che tutti voi possiate trarne beneficio. Allora, in assoluto grazie per questo invito di oggi che comincia a rendere visibile un accordo che abbiamo buttato giù sei mesi fa. C'erano due o tre punti iniziali dei programmatici e uno di di questa era appunto la realizzazione di questa summer school, la quale noi, come dire, abbiamo dato un contributo piccolo, ospiteremo e questo ovviamente non può che renderci felici, orgogliosi di questo. A Santa Teresa, come appunto si diceva poco fa, le giornate di lavoro della summer. Io stesso poi con un'altra scoperta recente, un'altra persona preziosa, questa rete che stiamo con grande fatica ma anche con grande buona volontà e devo dire, mi pare, con risultati che già cominciano via via ad emergere, cioè già come Anastasi del centro mediterraneo la pira, così avremo la nostra mezza giornata da gestire, dando appunto un contributo ad una summer che mi sembra costruita in maniera sapiente, efficace, anche perché, come dire, riflette la rete di soggetti che partecipano alla realizzazione stessa. Ne riflette le diverse finalità e cerca in qualche modo di farle combaciare dentro un profilo che in fondo è questo poi il senso della rete, portare profili diversi, portare persino per certi aspetti interessi diversi ma poi sforzarsi via via di trovare un modo perché diventino più efficaci assieme. Perché, come un po' diceva poco fa Gian Piero, l'efficacia singola è un'efficacia ridotta. La capacità che abbiamo di raggiungere risultati importanti la possiamo sognare, la possiamo sperare soltanto se lavoriamo assieme come stiamo facendo. Il tema è decisivo. È vero che le migrazioni sono un fatto assolutamente normale della storia. Anche questo forse è un dato che andrebbe ogni tanto messo davanti agli occhi. Noi stessi ne siamo stati protagonisti in diverse fasi della storia italiana più o meno recente. Però questo ci suggerisce un elemento che è un po' forse quello che ci tiene assieme. Anche nei discorsi che brevemente di presentazione sono stati fatti oggi ci sono alcuni elementi che fanno da collante. E uno mi pare che il viaggio di cui parlerà questa summer è un viaggio doppio. Innanzitutto c'è un viaggio che dall'altra parte va interpretato perché in qualche modo quello che risalta di più è la violenza che accompagna questo viaggio. Noi non parleremo di un viaggio sereno. E questo è qualcosa che noi dobbiamo via via affrontare con sempre maggiore serietà. Io mi sto, giusto per dare un contributo, perché poi le cose accadono anche a partire da questioni, da esigenze pratiche. Io quando sono arrivato a Ragusa, nel 2011 scelto di venire da Ragusa, in realtà facevo tutt'altro mestiere. Sicurati, io sono un quasi ex, perché ormai non ho il tempo di fare, ma un quasi ex storico della filosofia rinascimentale. Quindi immaginate che cosa possa entrarci tutto questo. Però in realtà quando io mi sono messo davanti due cose. A Ragusa abbiamo un corso di mediazione linguistica interculturale. Che vuol dire esattamente? Vuol dire che dobbiamo sforzarci di modellare questo termine facendo appunto rete col territorio perché noi siamo qui dal 99. È vero, sono orgoglioso di appartenere ad una istituzione che, insomma, come sua età siamo quattro volte più vecchi allo Stato italiano. Abbiamo 600 anni di storia sulle spalle. Però a Ragusa siamo ancora una presenza giovane. E quindi bisognava prendere sul serio questo tema della mediazione e portarlo sul territorio. Non lasciarlo lì nel chiuso di Santa Teresa. Questo ci avrebbe fatto un danno a noi, avrebbe reso inutile questa nostra presenza. E mediazione significa che su questo grande tema noi non possiamo esimerci. Anzi, dobbiamo andarci con gli strumenti giusti. Io ringrazio Tonino per questa sua nota iniziale. A me è sembrato naturale cominciare a costruire questa serie di investimenti, ad aprire una serie di piste ai nostri studenti. Che devo dire, hanno accolto tutto questo con grande entusiasmo. Neanche due settimane fa sono venute due ragazze che hanno fatto il tirocino in prefettura. Chiedendomi di rimanere un altro paio di settimane. Naturalmente sapete l'amministrazione come funziona. Noi ho dovuto dire, un attimino devo capire se c'è una copertura assicurativa. Figuratevi, insomma, di fronte all'entusiasmo ogni tanto gli studenti fanno i conti anche con questa realtà contro cui impattano. Ma come l'assicurazione? Aspettate, fatemi verificare se è possibile. E poi in realtà sono rimaste. L'esperienza nelle scuole. Anche questa è una cosa che in comune con tanti soggetti che lavorano e ci hanno lavorato prima di noi stiamo cercando di costruire. Quante insegnanti si trovano di fronte a situazioni davvero difficili da gestire. Oramai è mezzo pianeta in classe perché ci sono i figli dell'immigrazione cinese, dell'immigrazione rumena, dell'immigrazione africana. Capite che per un insegnante è maledettamente complicato gestire queste cose. Quindi mediazione significa da parte nostra tentare di dare questi strumenti. Significa poi che, dico due cose pratiche pratiche, che un ex filosofo del rinascimento da tre anni fa corsi sulla filosofia e la cultura africana, spero l'anno prossimo di essere finalmente pronta questa introduzione. E lì i temi non sono a fare. Uno si immagina, ah vabbè, il professor Burgi sta scrivendo un libro di filosofia africana chissà che ci trova dentro. No. Ma perché il tema del viaggio, per esempio, come lo si può pensare senza quella grande categoria culturale che tanti e tanti intellettuali africani condividono che è il muntu? Che cos'è il muntu? È una parola che viene dal linguaggio bantu, indica un'esperienza di spoliazione di identità, di aspropiazione di cultura. Insomma noi siamo di fronte a un continente che ha subito prima la tratta. In due secoli, fra 6 e 700 noi abbiamo... perché che ci fanno i neri in America? Noi lo sappiamo che ci fanno. No? Mica ci sono andati loro. Quello è stato un viaggio diverso da quello di cui adesso abbiamo testimonianza quotidiana. Un viaggio che nessuno voleva fare e che qualcuno a forza gli ha fatto fare. E poi hanno subito 150 anni di colonialismo. L'altra, quando qui si ripete, e ovviamente figurate se io non posso condividere la parola sapere, cultura, noi dobbiamo fare un doppio viaggio. Riflettere su questo viaggio tragico che attraversa un primo mare di sabbia, un secondo mare altrettanto mortale che sappiamo qual è, è un viaggio nostro, di conoscenza. Io quando mi sono messo in testa di dire, ma cominci a investire su questa storia della filosofia africana, mi sembra interessante, mi sembra importante, ho fatto un giro per capire se ci fossero colleghi in Italia, non c'è nulla. Non c'è nulla. In Francia, in Inghilterra, in Olanda, in Austria, hanno già cattedra, hanno insegnamenti, hanno libri, e lavorano in maniera pratica, affrontando i problemi veri, la politica, la violenza, le torture, i viaggi, i sistemi. Inutile che adesso diciamo, ah vabbè, l'Africa, la violenza produce violenza. Cento anni di dominio coloniale non potevano produrre lord o paggi. La violenza produce violenza. È normale che questo sia accaduto, non potevamo aspettarci un altro risultato, ma lì ci sono tante responsabilità nostre. Ma se non conosciamo quella storia, non capiamo da dove arrivano tutta una serie di categorie. Un po' ne avete parlato tutti. Che qualifichiamo come pregiudizio. La parola razzismo è sempre un po' pesante da usare. Diciamo pregiudizio, ci teniamo sul politicamente corretto. Ci stiamo arrivando. Ma queste categorie sono tutte importate in un linguaggio coloniale che abbiamo in testa, ce l'abbiamo nella pelle. A volte anche involontariamente ci scappa un giudizio. Ce l'abbiamo addosso tutti quanti. Ma viene da lì. Se non smontiamo quel linguaggio e se non costruiamo invece una prospettiva diversa in cui il problema è non soltanto guardare i conti. Sì, la cosa diceva Boeri, è vero. Sono stato ad ascoltare anche il senatore dalla Zoanna, mi pare che si chiamasse, ha scritto un libro che fa conti anche demografici sulla necessità che noi abbiamo di almeno 300.000 ingressi l'anno per fare in modo che l'Italia non... perché noi siamo sempre di meno. Facciamo un figlio ciascuno. Anzi, anche gli immigrati cominciano ad adattarsi a questo nuovo modello demografico. Quindi senza quegli ingressi l'Italia è destinata ad invecchiare, a diventare una società che si chiude sempre più su se stessa. Che facciamo? Ci parliamo fra di noi. È una prospettiva misera. Che succede? Ho parlato troppo e vi faccio fuggire. No, no, no. C'è un intervisto? Vabbè. Ok. Sì, voi fatemi segnale quando io debbo... Vabbè, ma io ti chiamo. Ti chiamo per una serie di cose. Non scappeta. Non fuggi. Ciao, ciao, ciao. Quindi il piccolo contributo che daremo poi a questa Samara va in questa direzione di conoscenza. Di conoscenza. E ripeto, da noi non c'è quasi nulla. C'è tanto, tanto, tanto da fare. E questo mi conforta perché adesso non lo dico per piageria, ma devo dire Ragusa, il famoso modello Ragusa. Purtroppo forse, io condivido anche una tua riflessione che ho letto da un paio di giorni fa. Purtroppo a volte la politica è l'anello debole in tutto questo. Perché è quello che un po' succede. In questa rete che si sta creando spesso è lì dove poi dobbiamo lavorare di più, no? Però, come dire, in questo mezzo modello Ragusa lo sta creando. E il Colaianni, questo posto dove siamo oggi, ne è la testimonianza concreta, no? Fatta di mura, di persone, di attività, di istituzioni che ci stanno dentro, che si detrano. Quindi questo è, come dire, la Summer, il Colaianni, Santa Teresa. Sono posti che stanno veramente diventando dei posti comuni che stanno in rete. Per me adesso immaginare, e lo faremo nel prossimo inverno, di fare dei seminari qui o farli da voi, è la stessa cosa. Questo sta diventando importante e interessante. Questo circuito che si è attivato appunto con un'assoluta orizzontalità. Qui siamo tutti uguali. Io lo disse fin dall'inizio, io non arrivo qua a dire, ah, l'università appunto di 600 anni, qui noi siamo gli ultimi. Gli ultimi arrivati e con grande timidezza cerchiamo di proporci con gli strumenti che abbiamo. E chiudo su una cosa, per essere sempre, come dire, quanto più pratico possibile. Noi avevamo un grosso buco sull'italiano per stranieri, che è invece un problema anche qui su cui lavorare e c'è spazio per tutti. Con le prime risorse che abbiamo avuto quest'anno abbiamo chiamato un posto di ricercatore su italiano L2. Speriamo che ci sono, credo, due o tre candidati in gamba. Voglio dire, il bando è pubblico, quindi vedremo. Però mi sembrano tutti quanti, da quello che mi arriva, persone in gamba. Ecco, questo è un altro contributo concreto. Noi non abbiamo scelto una filologia o altro. Ci serviva quello e, devo dire, ho trovato il conforto di tutti i colleghi per questo tipo di scelta. e che spero possa essere fruttuosa, ma immediatamente messa a disposizione. Io non so chi sarà a vincerlo, ma sarà posto di fronte subito allo shock. Il giornalatore, il professor Buggio, si chiama questo nuovo prof, lo fa incontrare con una serie di persone e gli dirò, a parte le lezioni che devi fare, guarda che ti aspettano tutta un'altra serie di cose da fare con queste persone qui. Un'ultima cosa posso dirla? E' un ringraziamento personale, perché tanta parte delle cose che adesso facciamo con grande facilità con la Summer, con la fondazione, con scambi quotidiani di notizie, di proposte, di mille cose, passano da Chiara Facello. Lei si nasconde là sotto. Ma devo dire, le devo questo ringraziamento personale, perché sì, da Chiara, da tutta la fondazione passano tante cose, ma io poi ho costruito in questo anno un rapporto veramente buono, interessante, quindi tante cose passano anche dalle sue fatiche, quindi vuole... No, andrà bene come vanno bene tante cose che abbiamo già fatto e tante cose che faremo, però questo ringraziamento volevo pubblicamente darlo, perché mi sembrava giusto. Quindi tanti auguri a tutti, io vi ringrazio nuovamente, sono fiducioso, sarà una bella esperienza. Con la provincia si collabora da diversi anni, anche qui la presenza del dottore Falconieri ci permette di qualificare da una parte la visione e dall'altra parte anche la gestione, perché su questi temi abbiamo bisogno sia di visione, di pensare il nuovo, e anche poi di qualificare la gestione quotidiana e mi pare che questo è quello che stiamo provando a fare con discreto successo. In un momento difficile della vita istituzionale dell'ente, tra mille difficoltà che sono legate alla esistenza stessa, messe in dubbio della provincia, dell'istituzione stessa provincia, però la provincia di Ragusa non si è voluta tirare indietro, quindi non ha voluto far mancare il proprio apporto e il proprio supporto. In un momento così problematico, credo, della vita italiana, il tema dell'immigrazione apre in tutti i telegiornali, proprio in questo periodo, per tutta una serie di eventi che stanno mettendo, credo, anche a nudo le criticità dell'Europa stessa, insomma, il ruolo dell'Europa vacilla nel momento in cui una parte si comporta in un modo e l'altro e lascia sola l'Italia che invece è in prima linea, in trincea per quanto riguarda il fenomeno immigratore. Ripeto, la provincia non ha voluto far mancare il proprio apporto e nel momento stesso in cui molti enti locali, per le difficoltà che vivono, si sono tirati indietro per quanto riguarda la gestione di molti progetti di accoglienza. La provincia invece ha addirittura incrementato la partecipazione, tant'è che ora siamo stati destinatari non soltanto di due progetti che erano quelli che avevamo e che erano affidati e sono affidati tuttora alla Fondazione San Giovanni Battista, ma di un terzo progetto molto delicato, molto importante, rivolto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e in più avevamo avuto finanziato un progetto FAMI, sempre rivolto a minori, che purtroppo ha visto andare deserta la gara per l'individuazione del soggetto gestore. Quindi la provincia partecipe perché si rende conto che è una fase delicatissima della vita del territorio e quindi qualsiasi istituzione locale non può far mancare la sua presenza, la propria presenza, il ruolo attivo e per questo nel momento in cui si incontrano, si hanno anzi iniziative altamente qualificanti come questa della Summer School, la provincia ci deve essere, siamo presenti e vogliamo augurare un ottimo lavoro perché il programma è ben nutrito, i relatori sono di altissima qualifica e preparazione professionale e quindi il profitto che si può avere da questa scuola sicuramente e non può essere che positivo. Quindi auguro buon lavoro e mi compiaccio anche a nome dell'ente che rappresento in questo momento per l'organizzazione di questa scuola molto importante. Grazie. Bene. Chiudiamo questo nostro incontro, poi avremo modo di ritornare sulla promozione dell'iniziativa. Mi piace sottolineare due cose. Il primo è ogni nostro centro, ogni nostro progetto cercherà di offrire alla Summer School anche a un nostro ospite che ha appunto i requisiti per poterlo frequentare a cominciare dall'italiano. Stiamo lavorando perché alla Summer in ogni progetto possa esprimere un partecipante perché l'integrazione non è fare delle cose noi e loro ma fare delle cose insieme. L'altra cosa che mi piace sottolineare è che il Financial Time, no stiamo parlando del Financial Time, manderà un inviato perché si è detto interessato a questo percorso e a questa Summer che abbiamo organizzato. Anche questo mi pare, come dire, un riconoscimento che riceviamo e di cui ci compiaciamo sanamente da questo punto di vista. Grazie per questo momento e appuntamento qui dal 30 per poi continuare al Santa Teresa con le restanti giornate. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.